E poi, poi la paura di sbagliare mi attanaglia. Dio il piede. Sono seduto e mi duele la caviglia. Chissà come mi alzerò da qui. Se mi alzerò, Dio. E se non ricordo la prima battuta, come farò a proseguire? Giulia! Giulia è il copione. Ce l'ha il copione. Ah, lei mi facendo di sì. Oddio, se non riesce a leggere, se non le danno luce, Dio. Ho bisogno della parola. Oddio. Stasera sarà una catastrofe. Non vorrei che mai finisse di parlare là, al centro del palcoscenico, ma... Arianna ha finito. Mi aspetta con la valigia in mano. Dio! Come vorrei che non venisse mai questo momento. Mi alzo col cuore in suppuglio. La musica. La musica mi suggerisce parole. La musica è la musica con cui io parlo. La musica mi porta via col personaggio. Ed è già la fine. Applausi. Applausi. Ho il cuore che scoppia, ma sono felice. Con i farini agli occhi, chiamo... Michele! 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 Mi sorride e mi applausi. E ne vado. Per me, la festa è finita. Applausi. 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 Grazie.